Ecco finalmente il momento più atteso di questa puntata, di questa sera, perché allarghiamo, finalmente andiamo oltre la superbike e abbiamo a che fare con un vero campione, Stefano. Sì, andiamo oltre, altra domanda? No, allora tu appena mi hai visto hai detto che c'ha zecca e con te è tutta la serata, e tutto il giorno che continua a dire che c'ha zecca, effettivamente spiegaglielo a quelli che ti stanno guardando in questo momento, fa parte delle tue sfide, fa parte delle sfide della tua vita. Beh è normale che quando uno smette di giocare a calcio e non vuole più sapere di quel mestiere, è normale che cerca altre, altra adrenalina da altre parti, ne ho fatte tantissime in questi 15 anni, 16 anni che ho smesso, questa è una cosa in più, mi è stata proposta da Nero, è bella, mi piace, poi ci sono tante donne belle, sono motivatore ma anche uomo immagine del team, motivare un team che ha perso due ruote ultimamente, insomma... Allora avete già capito che qui avremo a che fare con un personaggio per chi non lo conosce, che insomma, se non motiva lui, Stefano... Non mi incazzo più che altro, che quando perde una ruota vuol dire che qualcosa è sbagliato, è come quando uno sbaglia il rigore, è un allenatore che cosa fa? Ma l'hai già conosciuto il pilota? No. Sai che parla suono francese, eh Maximo? Ma io parlo anche gesti, insomma, alfabeto morso, quello che vuole. Che cosa può dare il calcio? Cioè, che parla francese, un team italiano mi girano le palle. Deve imparare l'italiano. O imparla l'italiano, o se no... Ma cosa può dare il calcio alla Superbike? Che cosa, il tuo ruolo in particolare, che cosa può dare? Beh, i calci fanno male. Non mi hanno visto mai un chiazzato, ma comunque, insomma, il calcio è... Io stavo facendo un riferimento su Montale, che viene da Pallavola, che ha fatto tante cose importanti con la Juventus e adesso a Roma. Non è detto che uno che ha fatto calcio, ha fatto pallavolo, ha fatto pallanuoto, nuoto, che io credo che... è stata sempre la mia idea. Quando ho smesso di giocare a calcio, ho smesso di giocare a calcio. Stop. E devo fare altre cose. Mi sembra di saperlo. Ma... Fare figli. Max Biaggi lo conosci? Max lo conosco, purtroppo è romano, ma comunque è della Roma. Faremo un tet-a-tet su questa... Ma hai visto, a Donington si sono viste immagini molto, molto, tra virgolette, normali nel calcio, no? Hai visto un po' di schiaffetti nel paddock? Io di cos'è? Nel... 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 Di proprio in pit lane. Ah, in pit lane, ok. Vedi che sto imparando qualcosa. No, nel senso che è giusto che uno se la prenda con un altro, se ha fatto qualche sgarbo, qualcosa del genere. Perché nel calcio una volta si faceva... Oggi vinco io, perché sennò ti rompo i tipi perni. Adesso è giusto che Max Biaggi è campione del mondo e Melandri è uno... La novità della superbike e vuol dimostrare di essere più forte, insomma. È giusto, quindi adesso ti rivedremo su tutte le piste. Su tutto... Io... No, siccome... A se nell'apri. No, ci vediamo in tutti i campi, no? Adesso su tutte le piste. Sì, l'importante è che ci sia un po' di erba intorno, che mi faccia stare un po' a casa. Sì, l'importante è che ci sia un po' a casa. Sì, l'importante è che ci sia un po' a casa.